Ciao, salve, questo è un video haul, un video haul assolutamente di nessun conto e in questo video haul vorrei però parlare lo stesso delle poche cose, dei pochi pezzi che ho acquistato dell'ultimissima collezione limitata di La Vera e già su questi schermi avete visto qualche mese fa un altro video che riguardava un'altra collezione limitata e che si chiamava così 20's Glam by Rebecca Mirmer qualcosa di questo genere ed era una collezione fatta in questo modo, uscita a ridosso di Capodanno durante le feste di Natale, poco prima delle feste di Capodanno io devo dire ancora una volta qui in Germania da quando esiste il virus virulento tutte le ditte co-bio tedesche hanno adottato un comportamento molto austero e quindi praticamente o non ci sono state più edizioni limitate oppure le edizioni limitate sono diminuite e si sono spogliate dell'aspetto divertente, dell'aspetto a volte glamoroso glamoroso stavo per dire che hanno sempre avuto questo per rispetto nei confronti di chi è malato per rispetto nei confronti delle leggi ossia non bisogna mettere dentro i negozi cose che invitino la gente ad accorrere nei negozi in gran massa e a comprare, comprare, comprare anzi bisogna fare il contrario quindi le ditte eco-bio tedesche si sono tutte adeguate un po' a questo comportamento la vera no la vera da quando esiste il virus virulento praticamente è l'unica ditta tedesca di prodotti eco-bio che fa uscire una collezione limitata dietro l'altra praticamente ogni due mesi, ogni mese e mezzo esce una collezione ora i prodotti di la vera non sono mai stati particolarmente performanti per quanto riguarda il trucco ci sono alcune cose che funzionano generalmente bene a mia memoria i rossetti, i mascara per esempio e però non così tante altre cose soprattutto la vera condivide gli inci spesso con marche più economiche per esempio spesso ritrovate gli stessi identici inci che ci sono nei prodotti di la vera nei prodotti di al verde e allora tanto vale comprare i prodotti di al verde che perlomeno costano di meno i prodotti di la vera forse voi li vedete come poco costosi però qui in Germania hanno un prezzo pur essendo prodotti da drogheria che non è giustificato da nulla se non dalla spucchiosità di la vera ad ogni modo comunque in questo periodo proprio di nulla addirittura sono diventate interessanti perfino le collezioni limitate di la vera e allora qui ecco la collezione appena uscita nel momento in cui vi parlo che si chiama Natural Beautiful Me ed è fatta in questa maniera questa è la cartolina pubblicitaria qui in questa collezione ci sono prodotti per la base c'è infatti un primer poi c'è uno spray fissante lo spray fissante è un inci molto simpatico poi c'è una cipria fissante e mattificante poi ci sono due prodotti in cialda pressata anche la cipria è in cialda pressata due prodotti in cialda pressata ciascun prodotto è diviso in due c'è una parte che può essere usata come blush bronzer anche se il colore è in tutti e due i casi una variazione dell'arancione e poi c'è una parte che può essere usata come highlighter ma è altamente brillantinata e questo è il motivo per cui non vedrete nessuno di questi due prodotti in cialda in questo video poi ci sono due fantastici fantastici blush in stick blush cremosi in stick poi c'è una matita bianca che scrive molto bene ed è molto bella bella si può dire bella per una matita bianca diciamo bella e poi c'è un mascara e allora io sto per presentarvi tutte queste cose ho fatto una fotografia degli inci con il telefono e quindi vi parlerò man mano degli inci allora parto in tutto si tratta di quattro prodotti questo è ciò che io ho acquistato parto con la matita la matita è una semplicissima matita bianca si chiama natural beautiful eyeliner non c'è una colorazione specifica scritta da nessuna parte quindi diciamo semplicemente c'è una matita per gli occhi o per quello che uno ci vuole fare adesso sto prendendo la matita per gli occhi però sto vedendo che è piena di curiosi puntini bianchi non so se riuscite a vederla io ho provato naturalmente il tester e il tester era completamente a posto ma qui ci sono curiosissimi sinistrissimi puntini bianchi allora vediamo un po' di riprenderci togliamo questi puntini bianchi la matita va puntata naturalmente perché per togliere tutti i residui e vediamo se scrive come dovrebbe allora scrivere scrive come dovrebbe però veramente va puntata e va eliminato lo strato superficiale di questa matita assolutamente questo è il colore della matita come dicevo prima è molto morbida scrive molto molto bene può essere usata per rischiarare il contorno occhi per esempio può essere usata per tante cose per quanto riguarda l'inci è uninci che non durerà nel corso del tempo questo posso dirlo già con certezza nel frattempo preparo la pagina con l'inci qui nel mio telefono perché è una matita che semplicemente ha dentro alcuni ingredienti interamente naturali trattati e idrogenati allo scopo di durare a lungo nel tempo ma in aggiunta ci sono anche ingredienti di provenienza biologica che non sono stati trattati e quindi suppongo che questa matita andrà in male in un tempo abbastanza limitato allora il primo ingrediente è titanium dioxide poi c'è olio di jojoba idrogenato poi c'è olio di cocco poi però c'è olio di semi di jojoba in tonso e questo andrà male poi c'è però vegetable oil idrogenato lo schifo dello schifo poi c'è un po' di burro di karité non idrogenato e questo farà andare anche a male la matita che bisogno c'è di mettere il burro di karité dentro la matita per gli occhi poi c'è purtroppo canola oil che sappiamo molto bene se non lo sapete studiatevi le vostre cose canola oil è un olio di poco prezzo poi c'è mica e poi ci sono le due cere carnauba e candelilla c'è tocoferolo gliceril caprilate e poi un po' di olio di semi di girasole anche lui non trattato poi vitamina C questa sarà una matita che non durerà a lungo nel tempo questo posso dirlo con certezza a proposito delle collezioni limitate di Lavera stavo per dimenticarvi di dirvi che sulle labbra in questo momento ho anche un pezzo della collezione precedente limitata di Lavera quella di cui vi ho fatto vedere il fogliettino poco fa ossia questo stupendo rossetto che si chiama Powerful Violet numero 2 un rossetto veramente stupendo bellissimo vi faccio vedere anche com'è sulla mano è un rossetto intensamente pigmentato e completamente matt io ce l'ho in uno strato in un unico solo strato sulle labbra oggi e le labbra sono state contornate con la matita stone di MAC che già che mi ci trovo vi faccio vedere anche lei sulla mano questo giusto per dire come la fa da padrone in questo periodo Lavera e come domina anche le giornate di una persona che in realtà non ha tantissima passione per i prodotti di Lavera poi c'è il mascara il mascara naturalmente non lo stiamo aprendo perché ho già tanti mascara aperti e questo si è fatto in questa maniera ho controllato l'ince perché si chiama Volume Mascara come riuscite sicuramente a vedere qui sopra e di Volume Mascara ce ne sono ce n'è già un altro di Lavera con un tubetto anche molto simile nel negozio ho controllato i due inci e i due inci non corrispondono e quindi ho preferito semplicemente acquistarlo il prezzo era abbastanza contenuto ed era praticamente solo di 50 centesimi in più rispetto per esempio al ai mascara di Alverde per questo l'ho comprato gli ingredienti di questo mascara leggo qui sempre dal telefono sono acqua iron oxide poi alcol naturalmente al terzo posto poi gliceril stearate poi olio di rapa poi aleurites fordi oil copolymer poi rusverniciflua peel wax che è una cera di bacche che mi piace molto e che viene molto usata qui in Germania e poi candelilla cera candelilla tridroxy sterin inulin silica pululan olio di jojoba alfa glucan oligosaccaride zucchero sotto forma di sorbitolo e poi c'è l'alcol deidroxantan gomma gomma deidroxantana gomma di acacia senegalese trealose tocoferolo olio di semi di girasole vitamina c e fragranza profumo aggiunto questo è l'intero inci del 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 mascara promette così così nel senso che aggiudicare dagli ingredienti non dovrebbe far niente per truccare in maniera pazzesca le ciglia però forse può fare qualcosa per prendersene cura staremo a vedere naturalmente e poi ci sono questi due stupendi ma veramente stupendi blush in crema e sono uno il numero 01 confident coral e uno il numero 02 joyful pink sono bellissimi sono veramente veramente bellissimi adesso li dissigiliamo insieme per fortuna c'era il sigillino in questi blush c'è addirittura come nella migliore tradizione dei prodotti ecobio tedeschi l'ulteriore cappuccetto per chiuderli e qui vedete il blush intonsissimo allora uno che è quello che si chiama confident coral è un rosa molto spiccato adesso prima facciamo le macchioline di colore e poi spandiamo le macchioline di colore per vedere qual è effettivamente la spandibilità di questi blush e poi apro anche il secondo che si chiama joyful pink 02 allora questi sono i due colori sulla mano adesso provo un pochino a spanderli hanno un comportamento da cream to powder nel senso che sono molto anche del rumore anche si sente anche nel rumore sono molto quasi intrisi di cipria come se fossero intrisi di cipria e sono zero cremosi cremosità non ne hanno per niente sono veramente dei prodotti cream to powder con un'ottima spandibilità come potete vedere allora richiudo prima di fare danni senza senso i due blush che hanno un piacevole odore di crema per le mani che uno avrebbe potuto anche evitarsi e cerco anche sul telefono ancora una volta il l'inci per parlarvi anche dell'inci di questi blush allora per esempio confident coral ma vedo hanno tutti e due quasi tutti e due lo stesso inci allora al primo posto c'è burro di karite al secondo posto trieptanoin al terzo posto dodecane e poi titanium di oxide e poi esteri etilici di burro di karite e poi candelilla cera candelilla c10-18 triglicerides e poi cera di riso capriloil glicerines e bike acid copolimer un mix di pronunce per leggere questi ingredienti poi iron oxide e poi tridroxysterine poi c'è carmine e poi c'è acetilalcol olio di oliva idrogenato gliceril rosinate olio di ricino olio di burro di karite stavolta stavolta idrogenato al primo posto c'è olio di karite poi più sotto nell'inci c'è burro di karite non idrogenato e da provenienza biologica poi c'è olio di cocco anche lui da provenienza biologica c'è olio di c'è burro di cacao da provenienza biologica c'è olio d'oliva da provenienza biologica c'è estratto di rosa centifolia da provenienza biologica c'è estratto di malva ancora una volta da provenienza biologica c'è tillacordata flower extract anche lui da provenienza biologica e poi maltodextrin tocoferolo olio di semi di girasole vitamina c che avete ritrovato e che abbiamo ritrovato insieme in tutti gli inci di questi prodotti alcol denaturato quando l'inci si stava per salvare alcol denaturato poi acqua acido citrico profumo benzina salicilate basta questo è il pastrocchio di questi blush and stick vediamo anche quali sono stati i prezzi perché questa roba non è economica allora ecco lo scontrino del mulle i blush stick ogni blush stick costa 6 euro e 99 quindi due blush stick fanno già 14 euro poi l'eyeliner 2 euro e 49 2 euro e 49 è una sessantina di centesimi in più rispetto a quanto costano per esempio le matite di alterra di terra naturi o di lavera e poi il mascara costa 4 euro e 99 i prodotti in cialda ossia la cipria e i due prodotti con metà highlighter e metà bronzer blush costavano se ben ricordo o 7 euro e 99 o 6 euro e 99 comunque una cifra esossissima per quello che effettivamente poi erano e perciò li ho lasciati lì mentre invece il primer anche lui costava 7 euro e 99 e lo spray fissante 6 euro e 99 lo spray fissante stavo quasi per prenderlo perché effettivamente aveva un inci molto contenuto molto ridotto e molto come dire aggraziato solo che io ho speso un totale con questo acquisto un totale di 21 euro e 46 ora 21 euro e 46 forse per voi è una bazzecola per me è una spesa molto grande con 21 euro e 46 io ci faccio due volte l'intera spesa per quanto mi riguarda nei supermercati penny o nei supermercati aldi comprese le cose che io compro gli alimentari che io compro da aldi o da penny per il fine settimana nel fine settimana noi cerchiamo di mangiare un po' meglio o un po' cose più ricercate ecco con 21 euro e 46 io ci faccio la spesa di una settimana per me stessa quindi per me cioè mi togli 21 euro ma hai tolto una settimana di spesa e quindi li spendo lo stesso volentieri perché comunque sono prodotti molto piacevoli c'è la contentezza di un'edizione limitata in tempi in cui non esiste più niente e non esiste più una vita perché purtroppo la gente non riesce a capire quattro regole ma quattro proprio in croce su come evitare di farsi contagiare non è possibile capire cose veramente semplici e perciò cioè sguaziamo nella pandemia vita natural durante e senza prospettive di miglioramento quindi nel frattempo mentre la vita è diventata proprio chiusa e buia questi sprazzi di ricordi di fasti del passato sebbene in maniera contenuta fanno piacere quindi uno li spende alla fine volentieri questi 21 euro devo anche dire io ho un buono per fare la spesa gratis mi è stato regalato a Natale nelle drogherie Rossmann alcune filiali del Rossmann le filiali più grandi hanno i prodotti di Lavera le filiali più piccole purtroppo no quindi io sarei anche potuta andare in una città vicina in una filiale grande del Rossmann solo e appositamente per non pagare i pezzi della collezione limitata di Lavera che mi interessavano potrei ancora farlo e andare a prendere perlomeno lo spray fissante però poi quando mi sveglio la mattina dentro di me penso ma chi me lo fa fare veramente perché poi rischi la vita perché la gente ti viene addosso si mette la mascherina male gli autobus sono sporchi lerci schifosi quindi rischiare la vita stiamo parlando veramente di rischiare la vita per andare a prendere uno sopra fissante non c'è senso e perciò questo video haul è finito e rimaniamo con questi pochi guai che già abbiamo e allora grazie di aver seguito questo video fin qui io vi saluto vi ringrazio ci vediamo nel prossimo video ciao ciao